Gli stati generali della sanità hanno prodotto un documento ben preciso contenente richieste che la comunità aretina ha legittimamente inoltrato alla regione toscana. A quasi due mesi dall'invio da Firenze nessuna risposta. Quindi o la regione apre un tavolo di confronto leale e concreto con noi, oppure a settembre sarò costretta a convocare la regione e chiedere conto di tutti i silenzi. Questo l'ultimatum alla regione del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e dell'assessore Lucia Tanti che sollecitano un confronto su quanto emerso e documentato a seguito degli stati generali della sanità aretina. Le nostre richieste vertevano in particolare su due temi, dice Lucia Tanti, un piano di investimenti preciso sul sandonato riguardo a personale strutture e dotazioni elettromedicali e una strategia circa la medicina di territorio per dare così risposte puntuali alle famiglie aretine. È incredibile, prosegue, che dinanzi a questi punti precisi di tale rilevanza, chi è depositario delle scelte politiche si permetta di ignorare le esigenze di un territorio e la legittima volontà di aprire un dibattito chiaro che rompa con il modello toscano che sulla sanità ha calato dall'alto e scelte che oggi portano i risultati obiettivamente negativi. Il sistema non funziona, le aslone sono un disastro, il personale medico e paramedico è sempre più sottoposto a modelli organizzativi pazzeschi che non permettono di far emergere in pieno le straordinarie professionalità, il territorio è sempre più marginalizzato rispetto ai centri decisionali. Così non funziona, conclude Tanti, siamo decisi a spostare il tema della sanità toscana dalla camera oscura nella quale il PD l'ha cacciata ad una casa di vetro nella quale, costi quel che costi, il giunta Ghinelli ci porterà. Conclude poi il sindaco Ghinelli, in autunno presenteremo una proposta per il superamento dell'aslone e ci apriremo ad un confronto con tutti. Se Firenze continuerà ad ignorarci, vuol dire che sarà Rezzo la sede del laboratorio per una nuova sanità toscana.